È da quattro anni di fila che faccio questa cosa, l'ho fatta a Villa Farsetti gli scorsi due anni e la consiglio sempre. È un'esperienza interessante sia per conoscere i formaggi italiani sia per socializzare per diversi motivi e ci vengo sempre con amici, parenti, con tutti quanti ed è sempre una grandissima esperienza. FICO è sicuramente un'ambientazione unica nel suo genere, molto interessante e credo che vada valorizzato ulteriormente soprattutto per quanto riguarda la parte enogastronomica e soprattutto con occasioni come queste che riguardano il comparto agroalimentare. Questa esperienza è stata più che positiva ed è stato organizzato questo evento in maniera eccellente, anche ai produttori molto disponibili, la consiglio. È un'organizzazione ottima veramente, con prodotti eccezionali.